ti 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 aspetta fammi vedere allora santa madonna c'è qualcuno ci siete giustato o non giustato molto bene i am porco zio cazza patto porco zio twitch va ragazzi non lo so twitch è morto pur stasera guarda se parte va la dobbiamo provare a fare tutta col telefono la live se qualcuno scrive un messaggio vedo non mi prende twitch col con sto cazzo di computer di merda ma come cazzo si può fare ci sta qualcuno ciao aglio niente sto cercando di aprire twitch col computer non riesco se non ci credete per poter leggere la chat meglio non ho capito che problemi c'ha twitch sul pc no le civitella non ci vado ciao ragazzi sto tutti i giorni a lavorare neanche c'ho tempo di andare a spasso no capito che ha fatto twitch col pc non mi funziona che vi devo dire pazzesco tutto a posto guarda là non mi piglia twitch non mi fa aprire twitch cioè che cazzo ho potuto fa sto computer la pagina ingognita niente non prendo guarda là non mi si collega a twitch cioè guarda qua ricarica è pazzesca cioè incredibile ragazzi incredibile twitch a me o mi si blocca o non mi fa fare le live o non mi si apre per niente c'è la paglia cioè non ci posso credere non ci si può credere ha sempre funzionato ogni volta ma non funziona c'è pazzesco guarda là non via ciao ragazzi dai vabbè iniziamo la discussione perché tanto qua dice che non risponde alla risorsa raga non riesco ad aprire twitch col mio pc per leggere la chat si si che forse qua è partito un po' aspetta forse qua un po' è partito volevo leggere la chat un po' meglio per non stare ma che ha fatto questo c'è pazzesco vabbè è partito ragazzi fatemi aprire il mio canale così riesco a leggere la chat molto più grande e possiamo partire subito con la discussione se parte sono stato a guardare un po' di news ma al volo proprio prima di partire con la chat quelle di Perez mi sembra una grandissima stronzata ragazzi sono molto sincero mi sembra una grandissima stronzata perché secondo me non ci sta nulla di vero eh no dai parti cazzo che cazza ha fatto da quello che ci ho capito io quelle di Perez è una stronzata è una scusa di Verstappen per poter dire una cosa perché dice semplicemente che si vede una un'accelerata di botta di Perez prima di sbattere a Monte Carlo ma succede con le macchine che ci stanno oggi in Formula 1 ragazzi può succedere tranquillamente non capisco dove sta la cosa assurda c'è boh non capisco cosa c'è di così assurdo ma ragazzi mi è stato a scrivere qualcosa non mi si muove manca la chat scrivete qualcosa ma qua si teme buona affa' ma Verstappen purtop è così Red Bull è sempre stata molto magnanima con i primi piloti ricordiamoci Vettel quanto è una combinata e nessuno gli ha detto nulla e quindi a me fa ridere sostanzialmente sta situazione perché sei andata a penalizzare il team ragazzi sei andata a penalizzare il team perché ma che so al Milano voglio ma se non c'è tempo manca di mangiare ma posso venire a Milano secondo voi ma se voi state fuori ma non c'è tempo manca di mangiare a casa ma domani devo andare a fare la spesa Euro Spin a comprare qualche centinaio di dolci ciao raga come faccio io sto troppo incasinato col lavoro per me non mi posso muovere quando il lavoro riuscirò a dilazionarlo un po' ho detto già che voglio venire a ste fiere mi piace a questi eventi mi piacciono molto ma non ora se ne parlo proprio mi stavo dicendo semplicemente Perez ha dato un colpo di acceleratore in una pista come Monte Carlo può accadere cioè se voi giocate anche in maniera virtuale vi rendete tranquillamente conto che succede tranquillamente anche a noi in maniera virtuale che accelera un po' di più in Formula 1 e ti giri quindi a me mi è sembrata una grandissima stronzata di Verstappen per poter sostanzialmente coprire le sue magagne e per il resto è stata l'infamata di Max si è andato a penalizzare il team perché chiaramente se il team avesse colto ieri un Perez con una posizione in più stava davanti alle clerche metti caso che malauguratamente da Abu Dhabi si ritirano entrambi sarebbe arrivato secondo Perez invece così sta dietro sì ma non mi serve il biglietto io se ci venivo lo pagavo da solo a parte che non andrò più alle fiere se non mi faranno entrare gratis se non mi chiameranno non ci andrò più manca il Pescara Comics mi ha toccato a pagare il biglietto no raga io sono youtuber sono uno dei pochi youtuber abruzzesi che non ce ne stanno in infinità in Abruzzo di youtuber sarebbero stati loro che mi devono chiamare l'anno prossimo se mi chiamano e faccio l'ospite ci vado se no non ci vado cazzo me ne frega a me sta bene così non mi interessa proprio perché penso che io faccio un lavoro anche per portare in alto il nome abruzzese qua e non voglio essere trattato come nell'ultima ruota del carro quindi si chiama Dato Bax sa gente che effettivamente dell'Abruzzo se ne sbattono i coglioni quando io sono abruzzese lo dico sempre parlo dell'Abruzzo parlo degli arosticini e a me non mi chiami Ana Fiera non te ne frega un cazzo vaffanculo aspettate ora è partita la live aspettate ora è partita qua aspettate che mo possiamo parlare ma si può allargare un po'? no ma da sbloccate ragazzi il discorso è semplicissimo oh c'ho la live grande avanti il discorso è semplicissimo Red Bull ha sempre fatto questi lavori Red Bull ha sempre privilegiato il primo pilota mo stavo proprio vedendo un articolo di non mi ricordo chi ragazzi che diceva come Red Bull ha cambiato strategia fateci caso con Perez da più o meno da Baku Canada Perez vince a Monte Carlo apposta ed effettivamente in quel momento era attaccato a Verstappen in classifica se vi ricordate dopo Monte Carlo c'era Verstappen Leclerc e Perez attaccati praticamente ha preso Red Bull da là ha fatto uno sviluppo dell'auto completamente pro Verstappen per penalizzare Perez e lo ha umiliato in tutti i modi effettivamente non avevo valutato questa cosa effettivamente non avevo valutato questa cosa fateci caso come Perez nelle prime gare ha dimostrato di essere forte di essere io lo dicevo non a livello di Verstappen ma molto vicino il team ha cambiato la macchina radicalmente l'ha fatta diventare completamente pro Verstappen ti fa capire quanto c'ha considerazione Perez nel team cioè zero Perez deve vincere solo se manca Verstappen e deve lavorare per il compagno di squadra appena si è provato a ribellare a questa situazione Perez è stato brutalmente richiamato come avete visto e quindi ditemi voi c'è i presupposti adesso Perez ha detto non ci si comporta così gli ho fatto vincere i mondiali cioè ditemi voi ora quali sono le prospettive per questi due piloti Red Bull l'ha fatto all'epoca di Weber e Vettel quando praticamente ce la voglio quando praticamente umiliò Weber dicendo ai due piloti di rallentare e Weber in quel momento mi sembra che era la Malesia o 2012 o 2013 andate a vedere praticamente che cosa fece ce la voglio che cosa fece Weber rallentò giustamente disse praticamente ci hanno detto di rallentare non perdo la posizione non perdo la vittoria Vettel invece sfruttò il fatto che Weber rallentò per sorpassarlo il bastardo un po' come fece un po' come ha fatto Pieroni con Vilneb a Imola nell'82 la stessa cosa la stessa cosa ma non sono gli sviluppi gli sviluppi sono uguali il problema è di sentire un pilota rispetto a un altro ragazzi cioè non avete capito il fatto che Red Bull l'ha preso e ha plasmato la vettura secondo le caratteristiche solo di Verstappen senza interessarsene minimamente di fare qualcosa per Perez e questo è stato incredibile Michi Lauda poi ne parli parliamo prima del focus della gara se no mi perde non ce la faccio più sostanzialmente ragazzi il discorso è molto semplice secondo me Red Bull l'ha fatto sì ma chi se ne frega Francia ma falli parlare tanto ora le banne non è un problema il discorso è semplicissimo ragazzi ciao per la decima volta se mi interrompete sempre voglio non ci riesco più dopo mi perdo e finisce così io penso che Red Bull da inizio anno non si aspettava un Perez che si trova così bene con l'auto hanno corso le prime gare e Perez è andato meglio di quello che pensavano per dargli un taglio e rallentare Perez nei confronti di Max hanno fatto sviluppi tutti a favore di Verstappen ma non puoi fare di proposito perché la telemetria va bene bagniamo il primo rutto di cane che già mi stanno rompendo i coglioni a me quelli che mettono in bocca parole che non esistono via fuori uno la telemetria dice semplicemente che Perez ha dato un colpo all'acceleratore ragazzi ma in una pista dove guida una formula 1 può succedere io non vedo questa cosa così folle secondo me Verstappen è un grandissimo rosicone anche perché Perez ha rischiato pure di non prendere parte alla gara perché ha rischiato di rompere il cambio quindi se voleva da una botta bastava che usciva dritto bloccava la strada e non si passava più il fatto che Perez abbia sbattuto anche in maniera violenta ti fa capire proprio che ci sia stato un problema quindi secondo me è una buffonata un modo di max per non dire sono un coglione un bastardo un pezzo di merda e non faccio regale a nessuno tantomeno a Perez secondo me è una scusa inutilissima quindi ragazzi ammesse cose non ci attaccano perché grazie a Dio ho la mente che mi viaggia fuori orbita rispetto agli altri queste sono stronzate sono stronzate che vi posso mettere a tanti di voi che ci credete per me non è vero per me Verstappen non voleva dare la posizione a Perez perché in qualche gara si è rifiutato di dare la scia basta questo è il risultato ragazzi questo è il risultato è inutile ma bravo ma è inutile adesso dare degli attenuanti a max a Monte Carlo con le vetture di Formula 1 ci può stare che uno tocca l'acceleratore in maniera più vevente e te ne esci di pista lo facciamo anche in maniera virtuale cioè chi gioca a Formula 1 virtuale ragazzi sa più o meno sa più o meno che può succedere quante volte tu giochi a Formula 1 con la trazione a metà senza trazione senza il contro di trazione e te ne esci a scegliere un po' di più sono cazzate voglio sono cazzate anche perché Verstappen poi al punto che si è trovato che Alonso non l'ha preso il rettilineo nell'ultimo tratto di rettilineo bastava che rallentava e lo faceva passare invece pure là ha fatto il bastardo e non gli ha dato la posizione voi pensate che sia un bene per Red Bull una cosa del genere io vi dico una cosa voglio io vi dico che da quello che ci ho capito io anche Perez essendo una persona che se le lega al dito le cose io non penso che ci sarà tutto questo clima positivo in Red Bull per le prossime gare per il prossimo anno io penso che a meno che proprio Verstappen per recuperare ad Abu Dhabi non faccia miracoli per far arrivare davanti Perez io penso che Red Bull avrà un problema nei prossimi periodi perché perché secondo me un comportamento del genere io ho visto Perez deluso ma mai visto Perez così arrabbiato mai mai da che mi ricordi secondo me Perez che è anche una persona molto focosa gliela fa pagare prima o poi gliela fa pagare a Verstappen una cosa del genere sono certo di questo no ma Monte Carlo Perez non ha avuto più di Max Monte Carlo Perez ha avuto la fortuna di fare la strategia giusta vinto ma il discorso è che Perez nella prima parte di stagione ragazzi andava come un missile che vi dissi io che vi ho detto io tante volte vi ho detto Red Bull farà di tutto per rallentare Perez per fare degli sviluppi che rallentano Perez e così è stato così è stato perché non puoi strapagare il campione del mondo far correre il campione del mondo avere un pilota che per il futuro ti rimane nel team per anni e poi avvantaggiare oppure dare possibilità a uno che fa il secondo pilota che ha due anni di contatto e poi se ne va oh no ma guarda che Perez c'è il contatto per altri due anni quindi pure se facesse qualche cazzata cioè chi lo può cacciare lo puoi cacciare ma devi pagare una penale enorme cioè Perez c'ha anche un po' le spalle coperte da sto punto di vista perché il contratto ce l'hai cioè che gli fai che lo vuoi licenziare per giusta causa stai a correre succede un contatto come successe tra Rosberg Hamilton a Spa a Barcellona ma no abbiamo sbattuto che vuoi fare cioè a quel punto tu non è che lo puoi cacciare il pilota dal team non ci pensate per niente ragazzi se l'avete capito il discorso è che Perez ad oggi per rimanere più possibile nel team Red Bull si è prostrato sempre in primi ricordo a Baku Perez è stato rallentato a Barcellona Perez è stato rallentato cioè in Ungheria è stato proprio in Ungheria Perez è stato proprio preso e è fatto spostare in un tratto della pista guidato dove ci stava lo sporco si è proprio buttato fuori dalla traiettoria Perez per non rallentare Max e quindi ha fatto cose assurde e essere trattato così secondo me non è giusto perché Perez non se lo meritava per il lavoro che ha fatto quando poi ripeto vai a vedere Perez l'anno scorso a Abu Dhabi per Max ha rischiato la squalifica ha rischiato di distruggere la macchina ci ha compromesso una gara che poteva prendere il podio sì ma Ricciardo si è andata apposta alla Red Bull però a posteriore ha sbagliato ma chi lo prende a calci ragazzi forse non avete capito Verstappen come ho detto nel video comanda un team di mille persone quello che dice Verstappen si fa state bene a di comanda state bene a di Red Bull pende dalle labbra di Verstappen e sarà così per i prossimi anni quindi non te la farei chiacchiere ma intanto sì sì ma tanto ti passo una cosa ti ripeto forse avete capito questo Max il comportamento di Max andrà a danneggiare Max stesso non l'avete capito allora perché Perez la prossima volta se si deve spostare e dargli la posizione facile non si sposta capito che voglio dire voi pensate che ha fatto bene Max per me no ma capito ma non devi fare pressione non devi fare pressione allora ragazzi il discorso è Red Bull paga 30 e passa milioni di euro l'anno Verstappen che è il campione del mondo è il pilota che ti porta più tifo è il pilota che ti porta più visibilità è il campione del mondo e c'hai un contratto per 10 anni il contratto a Verstappen sai quando gli finisce nel 2028 2029 quindi tu sai che te lo tieni nel team sai che se lo perdi è un danno perché va a rinforzare un'altra squadra e ti rompe il culo allora qual è il discorso di Red Bull semplicemente Perez è un secondo pilota come lo era Gasly ma ci hanno avuto rispetto di Gasly di Albon li hanno umiliati quando si parlava male di Gasly di Albon di Kvyat cioè Red Bull li ha sempre umiliati ma voi pensate che adesso su Perez faranno qualcosa di diverso e voi l'ha preso gli ha detto se era pure Perez ma ve lo ricordate che Perez ha piedato Albon Perez sulla macchina ha fatto fare un anno scorso discreta con Perez questo è partito troppo forte grazie a tutti